bene abbiamo iniziato per nicoletta ciao stefania ciao a tutti benvenuti a tutte abbiamo sentito i punti di nicoletta ti accompagno contando lentamente da 51 e ti connetti in maniera più profonda a nicoletta 5 4 3 dove dimmi come la vedi la vedo intanto la vedo in piedi la vedo come adesso come lei e la vedo con un pennello in mani come una pittrice per cui lei ha e vestita però poi a questo pennello in mano questo cappello tipo diciamo un basket di quelli piatti proprio da pittori e lì c'è una grande tela davanti sul suo lato sinistro il pennello lo tiene con la mano sinistra da quello che sto vedendo e fa delle delle bozze degli schizzi colorati su questa grande tela ok chi dà l'autorizzazione scrive sì è una vita precedente o un'immagine simbolica metaforica e una capacità in realtà e con e nella sua vita attuale è una parte che lei potrebbe sviluppare se volesse nel senso che mi mostra che ha delle capacità creative potenziali ok quella di esprimersi con con le mani e con gli strumenti su una superficie ok vibrazione di nicoletta allora 95 miliardi consapevolezza 110 per cento rapporto tra anima e spirito tra ps e pie allora la ps la vedo 45 per cento ok vite precedenti cento 95 cervello percentuale utilizzata allora il momento a un 4,8 ok come la vedi nicoletta così liberamente allora come la vedo nicoletta la vedo o l'immagine fisica davanti la vedo bloccata in più parti in più parte del corpo su più piani e la parte in cui la vedo più bloccata quella centrale del corpo per cui l'addome avendo cela di fronte la parte e il lato sinistro che prende una parte della schiena può essere la zona lombare o poco più su il fianco sinistra e il ventre tutto la sua sinistra la sua sinistra si si suolato sinistro quindi di fronte sul lato sinistro la parte dal centro a sinistra della schiena il fianco sinistro e l'addome tutto fino a arrivare giù verso il basso addome quella è la parte che è che vedo più bloccata vediamo gli impianti allora li dico magari un po sparsi però ma dal primo che vedo è quello a livello della della tiroide l'altezza della tiroide quindi in questa parte della gola la prima che vedo ha un impianto all'orecchio sinistro da dire verso la coclea quindi una parte interna così a un impianto sopra la testa come fosse una calotta rotonda metallica color acciaio ok chiama tutto questo e dimmi 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 perché mi si compongono l'immagine mentre 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 la guarda anche rispetto alla mano sinistra che la mano in cui in realtà lei teneva il pennello vedo che ha degli impianti uno per ogni dita come fossero dei capucetti sulle dita così così e poi questo fa fastidio qua la doma è legato un impianto che è nato ultime vertebre chi ha messo le impianti chiama lì chi è perché cioè a cosa servono tutti questi impianti allora io vedo che in buona percentuale se non tutti sono legate dei rettiliani mentre quello alla testa legato dei falconi forni ma è stato impiantato comunque da diretti in attaccio è soggetto ad abduction nicoletta si maniera costante in tutta la sua vita da bambina oggi o allora in particolare da quando ha deciso di diciamo negli ultimi due anni da quando ha diciamo deciso di fare una scelta diversa matrimoniale negli ultimi due anni sì da quando si è teoricamente separata sì 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 da quando si è separata e lì in particolare è più soggetta più soggetta perché è più sotto pressione e più in conflitto diciamo con se stessa tra non tanto rimanere andare ma come fare per andare per cui all'interno di questo conflitto c'è come uno spazio in cui loro si infilano costantemente in particolare di notte va bene vediamo tutte le entità finiamo le eteriche un falco rettili vari che non ci interessano sì e poi cioè i dettagli dei rettili non sono fondamentali neanche quelli del falco però il falco è ben più importante del rettile che è proprio sotto allora l'entità eterica allora vedo che teoricamente ci sono delle ci sono state più che ci sono ci sono state ma non le vedo più però come se ci fosse stata rimasta un'impronta degli disincarnati dei disincarnati lì che sono stati diciamo in presenza a non possiamo dire infastidire comunque a essere presenti per almeno 4 5 anni disincarnati dalla sua parte ma pare i suoi si chiama li chiamai vediamo solo quanti quanti sono quanti ex uomini e ex donne io vedo dei parenti che sono legati allora dalla parte paterna due uomini una donna che una moglie di questi due e vedo tre si può meno una donna di con il nome di nicoletta dalla parte superpassi allora l'uomo e uno e il papà dell'altro e poi c'è la moglie di questo figlio di questo uomo quindi possiamo possiamo dire un nonno un figlio e la moglie anche se non è il legame con lei non è necessariamente quello di colette ha avuto parecchi vincubi soprattutto dai 28 anni e in questo lungo periodo ha avuto in otto mesi in cui è stata particolarmente male non praticamente non riusciva a dormire perché nella stanza polder case no quindi si muovivano le cose si chiudevano i cassetti si aprivano bla bla erano questi tre questi tre in particolare che l'hanno diciamo accompagnata per un lungo tempo lungo periodo ma sembra che ci sia un contratto legato a questo questi movimenti in casa nel senso che vedo che queste persone sono collegati ad un accordo ad un accordo che è stato fatto in passato prima che le nascesse e loro sono sono arrivati diciamo perché lei non rispettava l'accordo cioè perché questo accordo non era come che accordo andiamolo a vedere sì allora l'accordo che si collega una parte che mentre parlava ho visto che è legato proprio a un suo che aveva praticamente fatto l'accordo di avere successo nel suo ambito lavorativo sacrificando i successivi sacrificando gli antenati successivi nel senso che il successo era tutto raccolto lì in quelle due generazioni dopodiché lei era una di quelle che non doveva accedere non doveva aver niente cioè deve aver molto poco le briciole ma questo accordo lei lo può avere condiviso ma non è stato firmato da lei dopo aver accettato ma non è stato fermato da lei va bene causa esoterica del fatto che in questo lungo periodo di incubi lei che non è più cattolica da tre credente da 34 anni all'epoca vedeva la classica dualità il bene e il male quindi vedendo il male lo combatteva pregando allora lì ci sono vedo che c'è un edl che inizialmente l'era cattolica c'era credente era come un farla farla spaventare per far sì che tornasse sui suoi passi cioè che fosse radicata lì ancora nella credenza ancora nella preghiera per non farla sganciare da quella parte e basta sì allora prevalentemente sì quando le ritornava a pregare era perché le veniva creata questa condizione come dire se non ti affidi a questo alla credenza non puoi superare il problema va bene la passata questa parte in realtà cioè l'ha capita la sua ps l'ha capita questa parte qua per cui l'ha superata non utilizzando più quella quella dinamica lì c'è non facendosi più agganciare la causa degli incubi qual è la tascia prevalentemente la tascia al momento quante sono io ne vedo circa 400 da che piccola ad ora totale abbassino anche così tanto come si chiama siccome ogni abduction è inserita all'interno di un progetto che non mi ha il progetto di nicoletta si chiama proprio come la città in cui vive possiamo dirla no possiamo dire la città in cui vivi nicoletta lo te lo richiedo magari c'è ripensato possono che carbonia carbonia si chiama così ok una città della sardegna che si chiama così perché c'erano le miniere di carbone ora non più da quando hanno chiuso ma è tutta la storia adesso non la faccio anche perché la ricordo ma non benissimo quando hanno chiuso la zona è molto depressa a livello economico perché tutto rotava intorno a un indotto che non c'è più quindi ei sono i pro e il conto di quando succedono queste cose dimmi si guarda legato alla miniera miniera di carbone particolare c'è vedo che ci sono stati molti accorti soprattutto alla nascita della miniera molti accordi del tipo che sono stati firmati dai dei suoi avi per cui ricchezza all'inizio povertà dopo i suoi bisnonni trisavoli a ricchi lei povera sì sì ok bene approfittiamo beh è stata una delle delle miniere di carbone o la miniera di carbone più grande d'europa questa una delle delle più delle miniere non della miniera la produzione di carbone era veramente ingente e è costata tantissime vite e tantissima fatica e tantissimi sacrifici e malattie bene quindi chiamiamo la madre di nicoletta primo questo capitolo capitolo disincarnati che è in primo piano alla quale faremo adesso delle domande eccetera dietro alla madre chiamiamo tutti disincarnati che si vogliono presentare specialmente quelli di questa zona della sardegna tante 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 ingiustizie sono state commesse qui tante persone sono mancate ingiustamente dopo una vita di grandi sofferenze il capone una sostanza tossica non ci giriamo intorno vedo tanti vedo tanti tante persone tanti disincarnati molti uomini molti uomini che lavoravano in miniera e molti si presentano diciamo con l'immagine delle di questi unicoli cioè come se fossero stati alcuni in una parte intrappolati sotto si sono e poi vedono quali questi quasi ne vedo almeno un centinaio come se fossero ancora collegati alle miniere e poi non so quanto estesa fosse sotto la diciamo l'avena di carbonio ma di carbone però vedo molti tunnel molti tunnel sotto la miniera segreti anche sì 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 dove si estraeva il capone non si faceva altro una parte delle stesse si estraeva il carbone ma anche come delle dei passaggi dai tunnel principali diciamo così che raggiungevano tutta la sardegna se non tutto una gran parte dunque carbonia il nord quindi tagliando così tagliando in obliquo per arrivare su nella parte nord e così quindi una parte che arrivava al nord una parte che tagliava a metà la sardegna e andava la spesta taglia non tagliava a destra con che tecnologia umane ma questi canali esistono da ben prima delle miniere e come se le miniere fossero andate a collegarsi a quei canali prima loro delle civiltà precedenti le civiltà precedenti a agli abitanti si chiamano queste civiltà migliaia di anni prima mi arriva un'informazione sotto forma d'immagine non arriva ancora non ecco dunque c'erano ci sono dei personaggi che mi sembra che che c'è una festa in sardegna dove ci si traveste se non sbaglio come questi personaggi che hanno come degli diciamo degli stivali un po un po per loro ecco ma mutone assomigliano a così a quei personaggi lì assomigliano anche visiva anche come viso anche come ok ma sono mascherati o erano proprio fatti così insomma molto selvaggi molto rudi veloci mostosi no era l'immagine che prendevano la sembianza che hanno che hanno assunto non umani non erano allora chiamiamo tutti disincarnati vorrei che concentrarsi anche l'attenzione supporto flavia dove c'è strane energie secondo me da che parte della sardegna è proprio vicino a carboniano era dove è un porto in una scogliera di fatto non c'è un porto la galleria della miniera arrivava a un'altezza di 20 metri dal mare e finiva con una scogliera e poi c'era tutto un sistema per di ponti credo di scivoli per portare il carbone nelle navi che erano lì pronte andavano ma c'è una scogliera e porto flavia a questa insegna porto flavia scritta con i caratteri dell'epoca fascista no molto suggestiva il posto è assolutamente meraviglioso ma io vedo che da lì uscivano e serviva anche per fare andare via delle persone cioè oltre a caricare il carbone vedo che erano dei dei tunnel per per portare via delle persone c'è per far scappare per fare caricare degli esseri umani ma questi tunnel presenti in sardegna sono stati usati con finalità simili a quelle del deep state di oggi di persone che vengono usate allora io lì non vedo passaggi di bambini vedo passaggi di essere umani liberi no cioè non che liberamente percorrevano questi tunnel per no che venivano viene da dire deportati che venivano prelevati fatti passare di e caricati l'epoca di bisnonni di nicoletta sì 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 anche anche precedente ma anche in quell'epoca lì va bene quando è nato ufficialmente la miniera questo passaggio di esseri umani è aumentato c'è poteva essere utilizzata la scusa della miniera per per fare per essere perché fosse più in osservato diciamo questo questo far scendere le persone lì e caricarle portarle via dire anche una scusa c'era una doppia funzione delle miniere va bene chiamiamo quindi la madre come si presenta a due anni nicoletta perde la madre e non l'ha praticamente mai conosciuto la mamma si presenta molto alta c'è molto più alta che normalmente ecco che che quindi alta nell'ordine di due metri addirittura un metro novanta due metri si presenta molto alta a per mano una bambina si presenta con una bambina per mano piccola e la bambina e nicoletta ok c'è ricordo il ricordo di nicoletta sì che portato sempre con sé cioè non si è separata da nicoletta come ricordo nel senso che l'ha voluto tenere portare con sé anche nell'esperienza successiva cioè dopo la morte ecco quale è ok ma si è reincarnata o è sulla terra no non si è reincarnata non è sulla terra e in un posto ecco sta vivendo come in una sua si può dire dimensione un suo quadro sta vivendo allora il posto che mi che mi fa vedere e vicino al mare come fosse una casetta vicino al mare con una spiaggia quindi proprio mi è andata era proprio delle coste quelle cose lì del sulci la parte e vive con la bambina vive con lei ma qual è la causa esoterica di questa morte prematura dal punto di vista della madre allora io vedo che quello che mi sta mostrando la mamma c'è stata una scelta come sempre però voleva chiudere l'esperienza ci aveva deciso di non proseguire l'esperienza non era felice all'interno del matrimonio non si sentiva amata questo è quello che vedono si sentiva amata e voleva non voleva proseguire l'esperienza vedo del vedo che la scelta che ha fatto di morire sembra che sia stata attraverso una malattia una malattia una malattia tipo tumore una una malattia terminale così ok però abbandonato una figlia vuole dirle qualcosa adesso quattro figli ok allora vuole dire che lei è stata allora gli anni che è stata col 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 papà di nicoletta c'è stata cercata di di essere accudente di essere di amare cioè gli amati gli amati con tutto il cuore le amate con tutto il cuore dice che è stata col papà anche se lei non da come vedono probabilmente non non è stata neanche così consapevole nella scelta del matrimonio come se non fosse innamorata del marito cioè non l'aveva scelto non aveva scelto realmente non era non è stata una scelta legata all'amore e dice che se lei non è felice di che può concedersi di di allontanarsi di trovare un'altra strada senza dover ripetere la sua esperienza senza dover ecco porre fine alla sua vita per nicoletta sì 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 no ma cosa farà nicoletta è indipendente dai consigli di qualunque disincarnato non io chiedevo così un messaggio di empatia di saluto un anche un messaggio relativo non so se la madre lo vede le vede relative eventuali altre esperienze che nicoletta e la madre biologica hanno avuto in passato nelle vite parallele ci sono queste esperienze allora vedo una vedo una vita in cui loro erano insieme e mi viene da dire la la spagna in spagna e vedo che erano non erano parenti ma di nuovo erano due donne e vedo che erano imbarcate in queste navi delle grandi navi dove c'erano anche sembra un'epoca in cui c'erano delle scoperte delle scoperte marittime ecco e loro erano imbarcate insieme in una di queste navi le vedo che la nave era ancora traccata al porto e loro erano un po come diciamo delle fuggiasche cioè non erano lì insieme all'equipaggio che direi che era esclusivamente di uomini loro andavano lì sono sono andati su questa nave per scappare per scappare erano posso dire no posso dire l erano sorelle esatto esatto va bene apriamo stefania il portale aureo del diametro sufficiente a contenere le persone che si sono presentate va bene la madre ovvio tutti i parenti di nicoletta dimmi quanti sono che sono venuti vede 150 parenti molti da parte del papà diciamo due terzi è un terzo da parte del papà è un terzo da parte della madre e vedo invece molti disincarnati delle miniere non so se anche loro sono quanti aperto li abbiamo chiamati tutti i disincarnati della sardegna che si vogliono far vivi di non della sardegna di carbonia non di carboni bene vedo circa 2000 di carbonio si collegati alla miniera anzi di carbonia che io ho un po larga collegati alla miniera li vedo sì sono morti nella miniera che sono morti prelevati dalla miniera com'è la scena non so io la sto vedendo con con te probabilmente abbastanza forte questi uomini vestiti tutti sporchi vestiti di blu di marrone i cantano dei marroni rooney tipo quelli che adesso sono tipo anti infortunistica comunque bombati sopra e vedo delle camicie vabbè camicia fuori con dei bottoni camicia quadretti tipo così visi sporchi disegnati qualcuno ha un caschetto a un caschetto questa è stata un'esperienza ma tranquilla è stata un'esperienza questa molto dura e ogni come ogni esperienza molto dura molto formativa ora tutti se vogliono hanno questa opportunità di andare nel portale aureo ogni esperienza viene chiaramente acquisita e non persa ma ogni interferenza ogni residuo energetico ogni credenza religiosa karmica eccetera si dismette come un vestito lì si torna essere energia non uomo donna minatore o moglie di minatore solo energia esclusivamente energia pulita neutra basica da lì si possono fare tante cose in base alla propria consapevolezza si può anche tornare la sorgente senza più interferenze che oggi restano a bocca asciutta su un fronte di 2000 anime come ci si può anche reincarnare come minatori in un'altra minerà nel mondo uno può fare quello che vuole ma con una sua scelta mandiamoli tutti e dimmi alla fine quando entra la madre cosa fa stanno passando prima di tutto minatori come se fossero in tre file diverse i minatori sono tutti allineati in fila per due a sinistra ci sono i parenti del padre e a destra ci sono i parenti da parte della madre che la prima è la prima quando entrano i minatori io vedo che lasciano dei dei mucchietti di carbone come se ci fossero proprio dei mucchietti di carbone quindi la montagnola di carbone l'ha lasciata all'ingresso e la mamma invece è diventata più piccola ha cambiato forma da due metri invece è ritornato a essere un'altezza 1 e 60 così ultima immagine della madre che fa prima di entrare nel portale direttamente a come addosso cambiato vestito e ha messo un vestito di luce è indossato ok e la saluta saluta così come un bacio la salutiamo allora e chiudiamo il portale aureo ci sono tanti contratti nella vita di nicoletta li affrontiamo tutti uno dopo l'altro cerchiamo la causa esoterica del fatto che a nicoletta è spettata ad essere scelta a livello di contratti prima di scendere qui una matrigna che la maltrattata e privata di affetto beni fisici di tutto sì andiamo a vedere nei contratti no quella è la causa esoterica allora la causa esoterica dell'incontro con questa donna mi viene da dire che la causa esoterica e nella storia del padre cioè che questa donna è arrivata nel è arrivata nella loro vita perché c'era come un accordo con il padre non non con nicoletta anche lì c'è vabbè sicuramente però perché nicoletta sceglie chi è che interviene come entità nell'arrivo della matrigna che le è toccata vabbè da un'entità che è collegata ai bambini è collegata al malessere dei bambini come e mentale o eterica questa entità in nicoletta di nicoletta questa entità che si è intervenuto in questo caso per eterica eterica si chiama cioè com'è il suo dna di che natura io lo vedo rettiliano lo vedo rettiliano ha permesso che cioè lo vedo come se lei fosse stata avvicinata da questa donna per mantenere intanto le sue il mantenerla nella condizione di 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 disagio di nuovi di di poche risorse di però questa parte qui era comunque sempre legata a quel contratto che era stato firmato da un suo avo cioè di di oltre avere poco a livello economico anche avere poco a livello di relazionale affettivo per cui è come se quell'entità fosse sempre collegata a quel contratto la ok ci sono entità mentali in nicoletta si quante di livello è ne vedo 3 allora l'entità e di livello 3 la prima un'entità di livello 2 e un'entità di livello 4 la prima quella di livello 3 serve alla funzione di praticamente mantenerla è legata all'autostima cioè legata al fatto del dire va e viene cioè nel senso che questa parte qui si attiva solo ogni tanto lei lei sa di valere ma questa entità cerca di tenerla nella nel pensiero di non valere di non meritare di non meritare un miglioramento di proprio legato all'autostima all'idea che lei ha di se stessa la visione che ha di se stessa mentre quella collegata alla 4 è legata invece alla alla solitudine e come come se ci fossero delle fasi tra solitudine e un inizio come fosse un inizio di depressione legata proprio al pensiero della rimarrò sempre qua non cambierò mai la mia condizione questa è la 4 quindi 3 2 e 4 invece la 2 è quella che è più lieve ne vedo una che nella 2 che è legata un po' al cibo cioè diciamo al che quando a livello energetico diciamo va giù cerca di superare quella fase lì o attraverso il cibo o attraverso qualche diciamola così qualche vizio però è lieve c'è una cosa che mette in atto ma mette in atto solo ogni tanto la gola la gola si la gola non so in che termini ma Nicoletta sta dicendo è vero quindi non so cioccolatini non lo so tutto dipende dipende da come si sente da quanto è all'interno di questo pensiero può essere anche che si sia da tavola e si è alzato dopo due ore che non è durante un pasto cioè no magari si mette delle volte magari mangia di continuo quella giornata lì poi magari per tre settimane non le succede più però ogni tanto a questi in questo momento così c'è stata c'è una entità mentale collettiva allora l'entità mentale collettiva l'entità mentale sono queste no l'entità mentale collettive qui nella mente collettiva a cui tutti siamo inevitabilmente collegati qualcuno le chiama Gregor ma a me non piace come termine userei entità mentale collettiva ci sono dei collegamenti indipendenti a volte indipendentemente dalle entità mentali personali per esempio c'è l'entità mentale collettiva del gioco d'azzardo della ludopatia l'entità mentale collettiva dei sport di squadra ecco in questo caso c'è l'entità mentale collettiva esiste un'entità mentale collettiva di sofferenza da bambini la sofferenza vera non ho la playstation ma restare orfani presto di uno dei due genitori di entrambi trovarsi in qualche cunicolo a fare esperimenti sacrifici con questi mezzi matti patire la fame non poter andare a scuola lavorare da bambini si può dire di sì che c'è un'entità mentale collettiva perché è collegata a un progetto legato ai bambini perché per dire sulla totalità dei bambini almeno il 20% devono fare questa esperienza di essere orfani di essere maltrattati cioè l'esperienza di grande sofferenza dalla nascita fino ai 15 anni per dire no andiamo avanti ma non aprire gli occhi ma la tua immagine è sparita sei al buio è tutto nero ma non fa niente e vai avanti ok che caso proprio adesso se hai questo problema la cam ma che so perché è arrivato proprio adesso ok sappi che non ti vedo tutto qui ok come si chiama questa entità l'entità che si occupa di questa entità mentale collettiva guarda un nome che un nome che ho già sentito che è casualmente il nome di un'azienda che si occupa di fetti abortiti cioè mi sembra si chiami parentut parentut si parentut ok un'azienda americana ma che ha filiale in tutto il mondo che si occupa di pagare i fetti abortiti vivi per poi farci per poi vendere parti pezzi di dei fetti quindi la parte degli occhi la parte del cuore gli organi è collegata a Nicoletta a questo? eh sì indirettamente sì fa parte della sua esperienza sì a questo progetto sì sì padre di Kill Bill mi ha scritto Nicoletta non ho capito cioè il regista padre di chi di Kill Bill no è connessa va bene va bene causa esoterica del fatto che si sente stanca al risveglio praticamente sempre quando si sente stanca al risveglio è perché ha avuto un tentativo di action e ha resistito è resistito quindi praticamente succede molto frequentemente bassa concentrazione allora io vedo una cosa che che raccontava prima che la caduta che ha avuto da piccola ha creato almeno etericamente un problema anche alla concentrazione quindi un problema alla testa ma anche non solo anche diciamo la colonna vertebrale e quindi il fatto della bassa concentrazione è legato a un'area della testa che è stata come dire non proprio disabilitata però è stata in sospensa in stand by in stand by danneggiata danneggiata ma non deve essere aggiustata cioè come fosse spenta in stand by proprio riavviando la riparte ok chi è che l'ha fatta cadere la bambina è sempre collegato a questo progetto è sempre collegato a questo progetto e al fatto di perché l'esperienza che lei doveva fare che di fatto ha fatto era quella di rimanere comunque emarginata quindi il fatto di giocare con i fratelli più grandi come è stato quando è caduta gli avrebbe permesso di inserirsi diciamo in un gruppo quindi con i fratelli poi magari con amici dei fratelli quindi di inserirsi in un contesto relazionale mentre la caduta le ha fatto insorgere la paura di non poter essere al passo tolta l'età ma di che era meglio stare più tranquillo era meglio stare ecco e quindi l'ha di nuovo tirata indietro riagganciata al fatto di dire meglio se meglio se la paura di non essere di non essere al posto giusto di non fare la cosa giusta questo e quindi è stato un tentativo di distanziarla dalle relazioni ok vediamo il matrimonio causa esoterica di del fatto che sposa questo uomo del fatto che si separa del fatto che questo uomo le rende la vita diciamo anche impossibile e del fatto che no è questo questo per il momento sì allora questo uomo lei lo aveva già aveva già fatto un'esperienza con lui e in realtà lo vedo come un padre un padre di una vita parallela di una vita precedente che nuovamente ecco c'è stata la dinamica una dinamica simile a questa ora lui ha rivestito sta rivestendo il ruolo di marito di ex marito ma a quel tempo là era un padre e di nuovo non accudente di nuovo non accudente perché sembra che lei abbia fatto diverse esperienze simili a questa cioè di nuovo dove non si sentiva amata dove si sentiva sola non si sentiva nel posto giusto e questo marito l'aveva già incontrato lì l'aveva già incontrato lì in nuova in felice causa dei problemi diciamo nella la sua lei definita la vita sprecata io non riesco a lavoro lavoro anche tanto non riesco a garantirmi una vita decente no non riesco a se voglio cambiare casa non riesco ad andarmene da qui se lo volessi per esempio lei è una casa molto grande che la opprime come direi incastrata causa esoterica nel senso va bene sta ripetendo questa esperienza dice la ps ma perché non basta una sola esperienza che ha già fatto e strafatto no no perché lei non ha imparato nel senso che lei e poi dall'altra esperienza non ha imparato a liberarsi ok ed è tornata a farla per fare finalmente l'esperienza di liberarsi cioè è ripartita simile ad altre esperienze ma in questa la possibilità di sganciarsi quindi di ritornare a essere libera a fare l'esperienza della libertà a fare l'esperienza della realizzazione mi dice della realizzazione si è anche perché allora il lavoro che sta facendo questo quello che mi arriva il lavoro che sta facendo è un lavoro che non è stato scelto totalmente da lei nel senso che lei si è ritrovata e ha queste caratteristiche di empatia questa parte di grande accudimento ad accudimento ma grande ascolto per le persone che si sentono capite allora lei di questo ha fatto un lavoro ne ha fatto un lavoro però questa parte potrebbe anche essere un hobby diciamo paradossalmente e invece fare un lavoro che realmente la realizzi che sembra che questo lavoro non sia stata una scelta totalmente sua è stato un incontro di cose anche una scelta dell'ex marito per cui sembra che quella la base non sia non si sente realizzata perché di fatto non è stata una scelta consapevole anche possiamo anche tradurlo come dice in altre parole come c'è l'energia del marito c'è l'energia del marito sì l'interferenza del marito ma anche rispetto non c'è indipendenza non c'è indipendenza da parte di nicoletta non è quello che voleva lei l'ha deciso il marito guarda viene a lavorare qua o come comunque sia andata va bene il marito alle sue interferenze tra l'altro invitiamo il marito nel cinema invitiamo i figli 2 mi ricordo male 2 tutti quelli che vogliono della famiglia di nicoletta venire ad assistere scusami stefania ma qual è la causa soterica di sti cavolo di lampi bianchi che vedrò solo io sicuramente e che continuano ad arrivare sulle mettele dove li vedi sul lato mio e di nicoletta vedo c'è un'estrare di luce legato a nicoletta a nicoletta quanti sono ne vedo uno in tutto in tutto cosa intendi cioè quelli relativi a nicoletta ne vedo uno che è la causa di questo e poi ce n'era ce n'era un altro c'erano quelli relativi al tornare a pregare però in questo momento quello che sta agendo è questo questo qua perché è un punto che non piace non gli piace che venga toccato cioè non vorrebbe che venisse fuori ecco cosa quale appunto la parte che lei può che lei può sganciarsi che le può sganciarsi dal discorso lavoro del discorso casa che può essere libera che poveretti veramente che poveraccio ma siamo ancora qua costentita da quattro soldi che non vogliono va bene nel cinema cinema chi viene allora vedo il marito che è lontano cioè nel senso che è in prima fila ma quasi sotto diciamo così sotto il palco sotto la parte neanche seduto è in piedi distante sta guardando cosa succede i figli sono in prima fila sul lato centrale ma più verso destra e hanno assistito a tutta a tutta la proiezione e poi ci sono vedo dei nipoti allora ci sono dei parenti da parte del marito come fossero dei nipoti appunto che sono un po' distanti dalla modalità del marito ecco mi sembra che siano ma affezionati a nicoletta ci sono legati a nicoletta e poi vedo dei parenti da parte della mamma di nicoletta tutti lì la causa esoterica del matrimonio col marito e non con un altro uomo o con nessuno perché in qualche modo era nato con una diciamo una vita parallela con lui e l'esperienza si è ripetuta con lui perché lei si liberi da lui cioè non da lui dal tipo di rapporto quindi la psa ha fatto di nuovo uno stesso incontro con ruoli diversi ma con la stessa persona come un po' ridondare come a voler dire ora lo puoi imparare ora lo puoi imparare ok ma in che modo ora noi elimineremo i contratti andremo all'avatar facciamo il solito nostro lavoro che ha un valore estremamente positivo e forte e totalizzante ma qual è il l'elemento nel nel ambiente fisico nel mondo fisico l'azione che la ps si aspetta da nicoletta cioè deve fare perché nicoletta la ps la ps e nicoletta a volte non c'è questa unione e passa il tempo sì allora intanto intanto quello che mi dice prendersi cioè si tratta di non so perché in parte ma parte molto dal discorso lavorativo no e ti lei ha tutta una parte creativa che è bloccata ma che c'è molto forte le può permettere proprio delle buone entrate ma che non è utilizzata per niente adesso non so se ne è con la conoscenza ne è consapevole di questa sua parte legata ai colori legata alle forme legata a creare con le mani la pittrice dell'inizio al dipingere sì 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 vuol dire a pittrice potrebbe essere decoratrice per fare piatti ceramiche si sono a questa parte qui che la può proprio far sentire realizzata quindi la ps spinge tanto sul sul far sì che lei si ricordi mi dice che si ricordi chi è cioè si ricordi che anche questa cosa qui lei ha deciso quando è tornata diciamo che ha deciso che poteva risvegliarsi come una creatrice una creatrice dal punto di vista proprio del creare del dare vita a delle creazioni artistiche ecco punta tanto su questa parte qua e quindi le chiede di 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 valutare cioè di come di le sta consigliando di più che consigliando non mi viene le dice questo perché lei si ricordi che risvegli questa parte adesso poi facendo questo lavoro delle parti probabilmente emergeranno magari attraverso i sogni magari attraverso dei ricordi però è una parte che questo è proprio a filo d'acqua a filo d'acqua di cera peste quindi gliel'ho voluto dire perché lei si proprio se la possa ricordare possa iniziare a prendere un foglio qualsiasi per a fare degli schizzi cioè non perché magari il futuro sia nella pittura o nel disegno ma mettere un'azione in quella direzione mettere un'azione in quella direzione affinché si anche il corpo le memorie del corpo si possano ricordare si possono ricordare di questa caratteristica di questa capacità che poi è legata a un'area del cervello per cui poi magari andando a vedere quanto è aumentato vediamo se quest'area certo si è risvegliata insomma quindi interessante è l'elemento l'esercizio che permette a Nicoletta di arrivare a epifanie a comprensioni superiori relative alla sua vita al come reinventarsi dire appunto a pittrice ma vuol dire non so per alcuni è meditare per alcuni è provare la telecinesi per qualcuno è scrivere per qualcuno è dormire di più per lei è cimentarsi in un'espressione grafica su un foglio grafica su un foglio sì proprio così proprio così andiamo al cluster quindi con questa ps di Nicoletta così precisa nelle indicazioni questa diciamo è l'incarnazione più importante di Nicoletta su 195 quelle che siano di Nicoletta in questa lei riesce a lavorare sulle sui contratti sì ti porta lì sì allora arrivata siamo arrivati e guarda in un museo in un museo in un museo con dei quadri appesi e i contratti sono dietro i quadri praticamente lei giro ogni quadro c'è un contratto è proprio una sala di un museo di pittura ecco diciamo di pittori e si dirige direttamente nel contratto che le aveva accettato quello del suo trisavolo diciamo così del suo antenato che ha firmato questo accordo sacrificando molti di successivi suoi come si dice delle generazioni successive sì allora ora questo l'ha strappato e ci ha pitturato sopra qualcosa lo sta riscrivendo così ora via tutto non c'è più la sala ok il segnale a creare un ad eternum e quando l'ha fatto lo lasciamo qui dove ci sono i contratti erano i contratti lo sta dipingendo e poi lo sta tirando fuori dalla tela ha fatto così ha tirato fuori ed è un ad eternum molto bello lo lasciamo lì e andiamo all'avatar ok ci siamo come lo vedo allora lo vedo oggi l'ambientazione tutta artistica allora l'avatar lo vedo ma guarda lo vedo anche come fosse non come fosse non messo su una su tipo su un piedistallo no così in piedi sai come fosse uno come si dice non un bronzo ma comunque una scultura una scultura così come fosse una scultura con delle cuffie non c'è il tavolo non c'è la scrivania c'è questa scultura con le cuffie e ha dei bottoni addosso tertura quindi come se si digitasse addosso le cose tutto si presenta in maniera sempre diversa quale siano le ragioni questa volta sono abbastanza influenti ormai Nicoletta ha capito tante cose è andata oltre questi dettagli queste questioni sì anche qui un ad eternum quando ho buttato tutto in un portale definitivo lo sta facendo lo sta facendo ce l'è in mano lo sta posizionando ok ha fatto bene torniamo di qua dimmi se vedi qualunque tipo di interferenza comprendendo con interferenza le tereche elementali impianti ma anche le abduction eventuali cloni residui energetici basse emozioni un emozionale basso tutto questo per me è interferenza c'è ancora qualcosa no ho detto l'emozionale basso c'era ancora qualcosa che si stava staccando ma lei lo sta staccando in che modo come scrollandosi bene scuotendosi è venuto tutto completamente via quello che era relativo ancora l'emozionale mettere sicurezza l'emozionale quindi il corpo emozionale creando un ulteriore ad eternum metterlo e mettendolo qui quando l'ha fatto ne crea altri quattro ne mette uno nel sublime il corpo subliminale corpo eterico corpo mentale e corpo fisico si sta mettendo anche una ad eternum nella parte della nuca e ce l'ha già nel corpo fisico però ne ha voluto mettere un altro dove c'è dove era caduta nuca ok perfetto o può mettere quello del fisico in un posto specifico ovvero nella nuca e quell'altro del corpo fisico appena l'hai detto l'ha messo tipo all'altezza del cuore ma non so perché lo mettono tutti lì alla fine non so perché va bene nel senso è il centro del corpo equidistrante da tutto è fondamentale quindi va benissimo così bene come vedi nicoletta la vedo colorata allora la vedo come se ogni corpo queste le immagini che ci sono quando fanno vedere i corpi sottili quindi intorno al corpo fisico come se ogni strato avesse un colore diverso e vedo una quantità importante di viola quindi facciamo che il primo corpo sia brillante poi vedo per dire un giallo giallo solare poi vedo un viola come fosse il terzo corpo poi il verde però tutti dei colori molto brillanti che che vanno in realtà a sostituire dei colori più opachi che invece aveva l'inizio benissimo nuova vibrazione stava a 95 miliardi secondo la tua scala si vedo adesso 230 miliardi ok tre volte e mezza 4 percentuali di consapevolezza 107 170 per cento psp allora ps adesso è 65 vite precedenti erano 195 ce ne sono 40 e meno 150 149 e percentuale di cervello dico questo che la vita mi è venuto così che la vita quella che ha vissuto con suo marito in veste di padre non c'è più quella non c'è che tra quelle sparite invece il cervello allora è diventato 7.5 7,5 oh ma e vedo che è tantissimo nicoletta è veramente tanto quasi il doppio un 40% di più perché sai qualcosa che rilevo che sei per il discorso della creatività era una mia curiosità vedere dov'era aumentato nel senso che aumentando i punti percentuali e l'area vedo che una grande parte d'aumento c'è stato un aumento tipo l'area organizzativa c'è l'area quella che sembra che si faccia parte della parte del cervello sinistro quello di pito alla parte matematica organizzativa quella più pratica una parte lì ma la gran parte è relativa all'area destra quindi che è legata la creatività è legata è legata anche all'intuizione quindi messaggio finale di psp a nicoletta relativamente a tutto e soprattutto al suo sentirsi in una vita sprecata allora la pie che prima era a margine è contenta la pie è contenta perché si sente che adesso può essere più ascoltata perché è come se fosse prima al di là del fatto che ci fosse una percentuale inferiore insomma prima poco di meno ma è come se non fosse stata presente non si fosse sentita ascoltata come se non esistesse la pie prima quindi è contenta di esserci è contenta adesso di poter anche lei interagire ecco è probabile che la parte creativa non lo so possano arrivare anche a livello intuitivo da parte della pie non so mi arriva questo e invece la ps allora la incoraggia nuovamente a trovare la sua strada questa nuova strada e mi dice di nuovo questo di ricordarti di chi sei come se dunque le memorie quando sei rinata fossero state tutte depositate c'è la memoria anche questa parte qua proprio della tua realizzazione del come potrai realizzarti per cui ti invita a ricordarti di chi sei di chi sei veramente da chi sei proprio e chi ha è una un artista un artista punta sempre su questo che è un artista un artista e le consiglio anche di cambiare colori nel vestirsi ma solo per riagganciare esternamente quella la parte che è all'interno quindi variarli spesso non vestire sempre di rosso sempre di verde sempre di marron colori luminosi colori non opache ma colori vivi 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 così così tu la vedi bene adesso sì sì la vedo bene bene con tutti questi colori molto vivi molto luminosi ecco il programma carbonia esiste ancora taccherà il nome del progetto la città come la vedi magari potremmo mettere una d'eterno mettiamolo ma la vedi già così pulita allora io la vedo che i tunnel sotterranei ci sono ancora vediamo lì ad eternum sono vuoti sono vuoti mettiamo un sacco una fila di ad eternum in tutti i tunnel della Sardegna questi altri quelli delle miniere quelli costruiti da entità quelli costruiti da civiltà passate quelli costruiti da militari la Sardegna è un bel gruviera di queste robe ad eternum ovunque in ogni città della Sardegna è uno grosso grosso nella protagonista di oggi carbonia sì sì non siamo taccagni su questo ne creiamo quanti ne vogliamo sì e degli ad eternum grandi che vadano a bloccare tutte le uscite di questi tunnel anche beh sono intasati di ad eternum quindi arrivano giustamente anche fino alla fine i figli e il marito che fanno continuano a guardare il marito si è seduto adesso si è seduto perché pensava di essere in pericolo come dire che dopo aver visto tutte queste cose che sarebbe stato eliminato eliminato tra virgolette cioè escluso da tutto invece adesso si sente che si può sedere ha capito il lavoro che è stato fatto ok lo porterà avanti per se stesso anche lui e non la ostacolerà questo per se stesso però non ostacolerà Nicoletta non ostacolerà Nicoletta non la ostacolerà non è bene quello porterà avanti lui ma non la ostacolerà almeno come la vedi bene bene si si bene bene molto bene ok abbiamo finito allora disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo